ciao a tutti e bentornati nel mio canale siamo ormai nel mese di aprile e io nonostante periodo difficile che stiamo vivendo ho pensato di tenere lo stesso attiva questa rubrica dedicata alle novità editoriali intanto perché i libri si possono acquistare anche in ebook e poi se proprio non volete l'ebook volete il libro cartaceo potete comunque intanto farvi un'idea di quelli che stanno per uscire in questo mese quando sarà finita questa emergenza magari si potranno tranquillamente acquistare in libreria il primo libro si intitola il fossile e racconta la storia di claus e doris che hanno trovato sepolto in una dolina uno scheletro di neandertal riportarlo alla luce farà risvegliare qualcosa di inarrestabile credo che questo libro contenga al suo interno diversi generi tra cui un po di fantasy un po di giallo un po di thriller quindi sicuramente potrà essere avvincente se è scritto bene il secondo libro si intitola la strega e il cacciatore e racconta la storia d'amore e di un matrimonio tra una strega e un cacciatore di streghe credo che sia ambientato nel medioevo comunque in quel periodo lì e porta alla luce una lotta tra sentimenti contrastanti e scelte difficili da compiere perché comunque una coppia sicuramente con tanti conflitti perché una strega un cacciatore di streghe che si sposano stanno insieme vivono una storia d'amore sicuramente porterà alla luce diversi vissuti mi sembra comunque un tema abbastanza interessante forse anche un libro un po diverso dal solito il terzo libro si intitola a sua immagine racconta la storia di una ragazza che ha la passione per la fotografia ma vive in un paesino un po antiquato dove i ruoli tra maschile e femminile sono abbastanza definiti e non possono uscire da certi schemi lei però ha uno zio che la appoggia appoggia questa sua passione le regala addirittura una macchina fotografica lei piano piano comincia ad utilizzarla diventa anche brava questo la porterà a trovare un lavoro in città che accetterà volentieri ma si accorgerà ben presto che la sua vera passione è quella di fare la fotografa di guerra però ovviamente ci sono sempre dentro di lei questi schemi un po rigidi tra maschile e femminile lei prova a lottare a combattere vedremo se ci riuscirà il quarto libro si intitola la figlia dimenticata racconta la storia di una donna che riceve un misterioso pacco da cuba lei a cuba non conosce nessuno però apre il pacco e vede che dentro ci sono delle lettere datate 1940 comincia a leggerle e scopre la storia di una famiglia che è vissuta ai tempi della guerra piano piano si accorge però di avere dei legami con questa famiglia quindi questo riporterà alla luce una parte della sua infanzia che lei aveva completamente dimenticato il quinto libro si intitola a proposito di niente ed è la biografia di Woody Allen a me incuriosisce perché Woody Allen è comunque un personaggio particolare che mi ha sempre incuriosito abbastanza in questo libro racconta i suoi matrimoni il suo lavoro e il tutto con estrema ironia sincerità e anche creatività il sesto libro si intitola Lilian Boxfish si fa un giro è un romanzo ispirato alla storia vera di Margaret Fischbeck e alla sua folgorante carriera nel campo pubblicitario questo in realtà è un romanzo che prende solo spunto da questa storia perché nel romanzo vedremo Lilian che è una donna di 85 anni molto attiva molto dinamica con alle spalle una brillante carriera che il 31 dicembre del 1984 decide di farsi un giro per le strade di New York e ogni passo che farà sarà legato ad un suo ricordo di vita quindi diciamo che è un libro che andrà poi a raccontare la vita di questa donna attraverso i ricordi legati ad ogni angolo della città di New York è un libro particolare che mi ha incuriosito quindi ho pensato di segnalarvelo questi sono tutti i libri che usciranno nel mese di aprile sono disponibili anche in ebook ma io spero che molto presto noi potremo tornare alla normalità e quindi magari andare anche a girare per le librerie sfogliare tutti i libri poterli tenere tra le mani insomma spero che presto tutto questo sarà di nuovo possibile io per il momento vi saluto vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme